Allora oggi avete sfidato neve, ghiaccia e maltempo per venire qui a parlare di misure o misurazioni. Ricordiamo il contesto in cui ci troviamo è quello in cui vogliamo alimentare un sistema informativo gestionale a livello di management con dei dati raccolti dai processi di livello operativo. Quindi a livello operativo avvengono cose ma rispettevamo la volta scorsa insieme perché queste informazioni di livello operativo diventino utili a livello di management è necessario in qualche modo selezionare quale informazione vogliamo vedere e riassumerle nel modo più corretto. E questo ci porta a ragionare un attimo su come, su quali tipi di informazioni possiamo estrarre da un processo e come misurarle. E ci accorgiamo che siamo in un campo un pochino più ampio di quello della fisica in cui si misurano delle quantità analogiche e quindi dobbiamo un po' riprendere brevemente, non facciamo pipponi esagerati, ma quali sono le caratteristiche di un processo di misura e quindi in funzione del tipo di misura che prendo quali sono le operazioni, anche statistiche, somma, media ad esempio, abbia senso fare su quei risultati. Vogliamo evitare, l'obiettivo di tutto questo qual è? Definire degli indicatori che siano sensati e corretti anche da un punto di vista statistico, matematico, altrimenti rischeremo di avere un indicatore il cui variare, aumento o diminuisce, non dipende da un fenomeno sottostante reale, ma da un effetto collaterale di un calcolo fatto male o fatto nel modo sbagliato. il concetto di misura è un concetto ovviamente molto di base in tutte le scienze naturali e fisiche che in qualche modo, come dice questa vecchia citazione, ci rende più sicuro aver capito un fenomeno quando siamo in grado di attribuire un numero a quel fenomeno. Dare una valutazione quantitativa numerica, allora ho misurato qualche cosa, come la temperatura, la quantità di neve che è venuta giù in questi giorni, la quantità di ritardi che i treni hanno accumulato e cose di questo genere. Per passare dalla chiacchiera al fatto servono i numeri. E come ultimo passaggio se non lo puoi misurare, figurati se tu lo puoi migliorare. Cioè un processo di miglioramento significa passare da una condizione 1 a una condizione 2 in cui la condizione 2 sia preferibile alla 1. preferibile da che punto di vista? Se non ho dei numeri non sono neanche in grado di confrontare o di poter dimostrare che la 2 è migliore dell'1 perché non ho un criterio per poterlo fare. Quindi vabbè da lì definiamo processo di misurazione, in italiano usiamo sempre la parola misura, sia per l'atto del misurare, sia per il numero che esce fuori. In inglese vedete che il processo di misurazione prende il nome di measurement e invece il numero che esce fuori è la measure. Quindi c'è questa leggera differenza quando confrontiamo le due lingue. La misurazione o misura è il processo attraverso il quale si attribuisce, si assegna in modo obiettivo, quindi obiettivo vuol dire ripetibile anche da persone diverse che facciano il suo tipo di misurazione, non soggettivo, dobbiamo eliminare il più possibile la soggettività. Dobbiamo attribuire un numero a delle entità che stiamo misurando, entità che possono anche essere complesse e quindi di questa entità misureremo uno o più attributi. Se vi chiedo misuriamo questa sedia? La domanda è incompleta. La sedia è l'entità che voglio misurare, ma poi di questa sedia cosa voglio misurare? L'altezza? La quantità di peso che regge? La tonalità di grigio o nero di cui è rivestito? la durezza del materiale con cui sono costruiti i braccioli in plastica? Sono tanti attributi diversi dello stessa entità, dello stesso oggetto. Quindi ogni oggetto, ogni entità, parlando del senso più generale, più astratto, la possiamo vedere come caratterizzata da un insieme di attributi e noi vogliamo misurare alcuni di questi attributi. Quindi è già chiaro che cosa sto misurando riferito a che cosa. Quindi abbiamo questo termine entità che rappresenta o un oggetto, cui siamo nei sistemi informativi, o un evento, un processo, un'azione che è stata fatta. Quindi noi possiamo prendere, ad esempio, come entità da misurare, facciamo l'esempio, prendiamo sempre come al solito l'esempio dell'hackathon, potremmo prendere il partecipante. E del partecipante possiamo misurare alcune cose, che non so, a quanti hackathon ha partecipato, ad esempio. Oppure possiamo, quindi è un dato, è un oggetto nel nostro sistema. Oppure possiamo misurare, considerare come entità un evento, il processo di iscrizione. E questo processo non è un oggetto fisico rappresentato da qualche parte, è semplicemente la sequenza di una certa serie di azioni. Ma magari di questa serie di azioni mi serve conoscere la durata, la lunghezza. Quindi posso misurare o delle quantità, posso identificare o delle entità statiche, in qualche modo, qui sono chiamate oggetti, oppure delle entità in divenire. Il fatto che si svolga un certo processo, ecco, in quella fase del processo voglio andare a prendere alcuni tipi di misure. Del divenire, non del risultato o del punto di partenza. E ovviamente, secondo il tipo di identità, posso capire quali sono gli attributi che potrei voler misurare. Il fatto che la misurazione debba essere obiettiva, significa che devo avere delle regole ben definite e ripetibili per la misurazione vera e propria. Qui non misurare così a occhio, ma avere un procedimento. allora intorno a questo concetto di misurazione si accumulano diversi concetti. Noi abbiamo, e qui proviamo a riassumere in questo diagramma, allora partiamo dall'entità, facciamo un esempio facile, la sedia, che ha diversi attributi. Ok? Ho diversi attributi, di cui poi ne sceglierò uno, e di questo potrò creare delle misure, che sono chiamate misure di base, attraverso qualche metodo di misurazione. Che ne so, misuro l'altezza usando un metro, misuro il peso usando la bilancia, misuro la resistenza al peso mettendoci sopra pesi via via crescenti e andando ad annotare quando si rompe. Quindi ho un metodo di misurazione che mi dà un numero di base. Queste misure di base in realtà potrebbero essere eventualmente combinate per avere delle misure più complete o di quantità non direttamente misurabili. Io, se volessi sapere il volume di un oggetto, direttamente è difficile da misurarlo, a meno che io non lo vada ad immergere in un liquido e misurare di quanto si sposta il liquido. Ma magari posso prendere le misure di lunghezza e le moltipico tra di loro se è un parallelepipedo mi dà il volume. Quindi a volte da misure di base possono essere combinate per ottenere delle misure secondarie, indirette. Se necessario, ovviamente dipende dal tipo di misura. E poi da tutte queste misure che prendiamo definiamo, vorremmo arrivare a definire un indicatore. Un indicatore che è un numero riassuntivo che mette insieme una serie di misure, prese magari in momenti di tempo diversi, su prodotti diversi, su una serie di valori diversi. quindi vedete che da molte passo di nuovo 1, un indicatore che mi dice qualcosa a proposito di quell'attributo di quell'entità. Cioè mi riassume in un numero una qualità positiva o negativa di quell'entità vista in un certo modo chiaramente, vista attraverso uno dei suoi attributi, attraverso uno dei modi di misurarlo. E quindi questo indicatore, che poi è un numero, in qualche modo può essere interpretato. Torniamo sulla sedia, misuro l'altezza e mi dice che questa sedia è alta 90 cm, lo schienale in questo punto. Di per sé è un dato che mi interessa quasi a nulla, non mi dice nulla. Se io produco mille sedie, ciascuna di queste avrà un'altezza, saranno tutte quasi uguali, non saranno mai esattamente uguali, chiaramente. Ma allora potrò definire un indicatore che magari sia la varianza delle altezze misurate. Oppure la differenza tra il minimo e il massimo. Oppure il numero di sedie la cui altezza è minore di 89,8. Perché magari mi va bene lo scostamento verso l'alto, ma lo scostamento verso il basso no. Quindi sulla base di una serie di misure che ho preso, definisco un modo di aggregarne. La media, la varianza, lo scostamento minimo massimo, il numero di elementi che stanno all'interno o all'esterno di un certo range di accettabilità e così via. E mi dà un numero. Magari il numero di sedie che stanno sotto al 99,8% sono 26. Su? Su mille. Magari. E allora 26 su mille è il 2,6%. Ma è sempre un numero. È tanto o poco? È bene o è male? L'indicatore da solo non parla. È un valore che mi riassume in un numero unico una serie di misurazioni. E le riassume da un certo punto di vista, ovviamente. Scelgo come aggregare queste misure in un indicatore. Allora, quando ho preso questo indicatore devo essere in grado di interpretarlo. interpretare questo indicatore significa riuscire a estrarre dell'informazione utile alla comprensione del processo. Quel 2,6 va bene perché è nel margine rispetto agli obiettivi che mi ero posto. Oppure è troppo basso, oppure è troppo alto. Questa informazione non può essere estratta meccanicamente. Quello è un numero che esce fuori da una serie di misure, da una serie di operazioni numeriche. Poi ci vuole, a questo punto, il livello di management. Qualcuno che vada ad osservare questi indicatori e li valuti. Ne valuti il valore di quel numero rispetto al significato che assume quel numero. Qui, ovviamente, è la fase critica. Perché se io ho calcolato un numero che sia ottenuto in modo non affidabile. Perché la procedura di misura non è ripetibile, non è bella chiara. Oppure le funzioni che ho usato per aggregarlo non sono adatte. Oppure tutto adatto, tutto bellissimo, ma è di una complicazione matematica talmente grande che poi l'indicatore che esce fuori è molto difficile da capire. Come alcuni tipi di indicatori. Facciamo un esempio pratico. I consumi energetici di casa vostra. Se voi andate a prendere, anche qua il Politecnico, usciamo, no, spero di no, però temo di sì. Usciamo nel corridoio e cerchiamo di capire se i consumi elettrici di casa tua è meglio esprimerli in kilowatt, kilowattora o euro. Probabilmente molti diranno euro. Metà A non capirà la differenza tra kilowatt e kilowattora. O si confonde. Perché sono semplici come unità di misura, tutto sommato. le conosciamo da quando facevamo le superiori. Però comunque questo kilowattora non entra mai in testa, no? Perché è anti-intuitivo. Ma ci può stare. Noi stiamo facendo un sistema, pensando di progettare un sistema informativo apposta per rendere intuitivi e visibili certe cose. Quindi se io ti do una misura che per te è difficile da interpretare ti porto o a non capire cosa sta succedendo o a prendere la decisione sbagliata. Perché ti basi su un dato che tu mentalmente interpreti in modo scorretto. Allora andiamo su una unità più facile, gli euro. Peccato che gli euro non misurino quasi niente rispetto ai consumi elettrici. Perché lì dentro nelle bollette c'è dentro il canone televisivo, ci sono le tasse, ci sono le quote fisse, ci sono gli anticipi, eccetera, eccetera. Per cui un'oscillazione della costa della bolletta non ha nulla a che vedere, non è direttamente correlata con l'oscillazione dei consumi. Quindi in quel caso ho preso un metodo di misura che mi dà un indicatore facile da interpretare ma il metodo di misura è sbagliato. Quindi non è scontato non riuscire a trovare un metodo di misurazione, di calcolo che mi porti un indicatore facile da capire, facile da interpretare e quindi che mi permette effettivamente di capire, di comprendere l'entity là sotto. Cioè cosa sta succedendo nel processo. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi. C'è un esempio di questo framework, cioè quello di messo all'opera. Se io ho come obiettivo informativo di stimare la produttività di un progetto futuro, allora voglio definire la produttività. Questa produttività è qualche cosa che vado a misurare analizzando quali entità. Le risorse impiegate, qui riassunto come un'entità che si chiama effort, magari le risorse umane in questo caso, e i requisiti. E qui ci dice che ad esempio sul effort, quindi sul tempo impiegato delle risorse umane, come metodo di misura. La metodologia di misurazione è l'analisi dei time sheet, quindi delle attività svolte dalle persone, e sommo le ore per ottenere una misura di primo livello, che è una misura base, che è il numero di ore lavorate. Questo magari è uno sviluppatore che sta implementando varie use case, quindi dall'altro lato, dai requisiti analizzo i casi d'uso che sono stati implementati e conto quanti passi, i casi d'uso li abbiamo numerati in passi, 1, 2, 3, 3A, 4A, conto quanti di questi passi sono stati implementati. E magari definisco come produttività una misura derivata che è l'effort, il numero di ore lavorate, diviso il numero di punti dei vari use case che sono stati implementati. Quindi una misura derivata da due misure base, che sono state estratte con due metodi di misurazione diversi, da due attributi diversi e di due entità diverse. E di questo valore, questa produttività varia ogni giorno, o meno ogni volta che vado a misurare questo dato, in un intervallo di tempo avrò un numero diverso, varia al variare della persona, perché se ho più di una persona che lavora ciascuno avrà una produttività diversa, o perché uno è più sveglio o meno sveglio, più bravo o meno bravo, o perché magari è quello più bravo e quindi è stato messo a fare le cose più difficili. E quindi per forza è più lento, magari quello meno bravo l'ho messo a fare le cose più facili e ne consuma due dodini al giorno, perché tanto sono banali cose ripetitive. Quindi ho questo valore di produttività che dipende dal tempo e dalla persona. e quindi per avere un indicatore unico, non so, faccio la media. Ne posso fare la media, ad esempio. Magari anche la deviazione standard, per darmi un'idea di quanto la media sia rappresentativa. E alla fine ho questo indicatore, che è uno dei mille e mila modi di cercare di stimare quello che è la produttività in un processo di sviluppo che si basa su una certa serie di requisiti formalizzati. Quindi tutta questa catena è quella che stiamo cercando di progettare, in certo senso. cosa voglio capire e che numero uso per rappresentare questa informazione e quindi questo numero come lo ottengo. Qui ci sono alcune scelte chiave, una è questa, sono tre essenzialmente. Una è questa, dire che produttività è uguale ora lavorata e diviso punti implementati, requisiti implementati. L'altro è calcolo la media. Queste sono due scelte concettualmente più forti. Poi ci sono altre scelte più basse, che ad esempio mi chiedo come faccio a sapere quante ore sono state lavorate da ciascun sviluppatore su ciascun progetto. Ad esempio obbligo i sviluppatori a avere dei time sheet, dire quante ore hanno lavorato nella giornata su ciascun progetto. Questo è un modo di misurare. Ovviamente se io riuscissi a trovare un modo di misurare la stessa informazione senza far perdere tempo agli sviluppatori sarebbe meglio perché andrei ad introdurre un disturbo inferiore alla misura, se avessi un modo di misurarlo direttamente anziché dire a fine giornata, dunque su quel progetto ho lavorato quante ore? Tre, poi dopo sono andato a fare una riunione, poi sono tornato, sono andato a pranzo, allora altre due ore dopo l'oggettività diventa un po'... Vabbè, qui sono tutti un po' di assunto dei termini con le varie variazioni di misura e misurazione. Queste sono le misure che prendiamo, dirette o indirette, che ci servono per costruire un indicatore che mi dà una stima, una valutazione derivata da un modello, cioè già da capire che cosa voglio ottenere. Di mezzo ci sta un intoppo che è la definizione di una metrica usata per le misure. Cioè non tutte le misure sono facilmente definibili come la lunghezza e l'altezza di una sedia. Qui abbiamo convertito in numeri delle cose che, sì, le ore lavorate è un modo di convertire in numeri, però effort è lo sforzo impiegato, le energie impiegate. Le energie impiegate sono uguali al numero di ore lavorate? Beh, può darsi. È un modo molto molto approssimato di misurare le energie impiegate. Lavorate da chi? Come? Per far cosa? Sono tutte variabili che magari sono importanti e magari non sono importanti. Qui abbiamo fatto una scelta di usare un modo di misurare un fattore. Qui ci sono semplicemente alcuni esempi in cui, data una entity e dato alcuni attributi di questa entity, possiamo definire diverse misurazioni, diversi tipi di misure. Ad esempio, se io voglio sapere un sviluppatore quanto ha prodotto, nell'esempio di prima c'era il numero di requisiti implementati, il numero dei passi dei casi duri implementati. Oppure potrei dire, beh, senti, a fine giornata quante linee di codice hai scritto? 10, 100, 500, 1000? Che è una metrica discutibile. Perché se lui in quelle linee di codice ci mette tanti commenti, ci mette tante righe vuote, aumenta il numero di linee di codice. Un altro che scrive tutto schiacciato, tutto compatto, a parità di codice scrive meno linee. E allora cosa rappresenta quell'indicatore? Niente. Allora diciamo, beh, anziché il numero di linee di codice che incentivano a chi scrive tanto, a chi si produca tanto il codice, contiamo solamente il numero di istruzioni eseguibili. Quindi togliamo, ignoriamo i commenti, ignoriamo le righe bianche. Se una riga contiene tre istruzioni, la conto tre. Se una riga contiene un'istruzione sola, la conto una. Se una riga non contiene istruzioni, la conto zero. che è un altro modo diverso di misurare lo stesso attributo, la lunghezza del codice scritto. Cosa incentiva questo? Beh, sicuramente incentiva la non documentazione. Se io scrivo dei commenti fatti bene e tu non me li conti, non me li premi, non me li valuti come parte del mio lavoro, allora io non li scrivo più. Poi me ne accorgo tra tre mesi, quando dovrò modificare quel codice o correggere degli ordini, non ci capisco più nulla. Perché il codice quanto è stato scritto non è stato documentato da vero. Sono sempre tutti effetti di cui parlavamo la volta scorsa, una volta che metto una misura, poi il mondo si adatta per massimizzare quella misura, ignorando altri fattori altrettanto importanti. Andiamo avanti. Questa parte qua, se vediamo, sono dettagli che possiamo... Quindi abbiamo questo primo problema di identificare un modo giusto di misurare una certa quantità, come misure base. Poi le misure base difficilmente sono utili di per sé, ma anche perché danno dei numeri assoluti e conviene quasi sempre molto spesso rapportare dei numeri assoluti rispetto a dei valori di riferimento. e quindi quasi sempre definire delle misure indirette. La prima è molto facile. Se io ti dico che una certa persona ha prodotto 10.000 linee di codice, e dire che l'ha prodotto in un giorno, l'ha prodotto in un anno, è diverso. Quindi in qualche modo il numero, la misura grezza, dice poco. Come prima dicevo, il numero di sedie troppo basse era 26. Ma 26 su quante? Su 1.000 o su 28? Perché le cose cambiano. Quindi il numero assoluto è difficilmente un buon indicatore. E' meglio sempre, sempre una parola forte, è meglio spesso rapportare le varie misure ottenute a dei valori di riferimento. numero di difetti trovati rispetto in un certo modulo software, rispetto alla dimensione di quel modulo. Questa è la misura di densità. In un modulo ho trovato 6 difetti, ma sul modulo è più grande e più piccolo. Quella sopra è una misura di produttività. c'è un rapporto tra un risultato, un output e una risorsa messa, consumata, per produrre quell'output. Quell'altro sotto è l'efficienza nel rilevamento dei difetti. Numero totale di difetti rilevati rispetto al numero totale di difetti esistenti. Allora questa è una percentuale, è un rapporto puro, come quello delle sedie. Quante sedie rispetto al numero totale di sedie. Quindi sono rapporti di tipo diverso, no? A seconda della natura del denominatore, al denominatore possiamo avere un insieme universo, una totalità di elementi di cui ne andiamo a considerare un certo insieme, oppure un fattore di scala, oppure una risorsa impiegata. Poi quando parleremo di KPI vedremo che questi vari modi di calcolare queste misure indirette servono a scopi diversi, servono per estrarre informazioni di tipo diverso. Allora, sempre in termini di misurazione possiamo andarci a chiedere quali tipi di proprietà misuriamo su una certa entity. ovviamente possono essere misure interne, cioè misure che posso ottenere guardando solamente la singola entità che sto misurando. quel prodotto, quel software che ho prodotto, il numero di righe, chi l'ha prodotto, quanti commenti ci sono. Mi dai quell'oggetto e io ti do già una serie di misure che posso conoscere guardando quell'oggetto. Diverse sono le misure cosiddette esterne, che invece possono essere prese solamente quando vedo quell'oggetto nel suo contesto. Quindi, ad esempio, il software che ho scritto nel modulo software, nella parte del sistema informativo in cui è inserito. Allora posso chiedere quale parte, quale percentuale è, quanti difetti ha lui rispetto al resto. All'esempio dell'Hackathon, se posso misurare delle quantità sul partecipante, sono quantità interne, non so, la data, scusate, l'età, ad esempio, del partecipante. Se io invece già andasse a chiedermi a quanti Hackathon ho partecipato, oppure qual è il team a cui partecipa, è già una misura esterna. Perché non mi basta solo l'informazione sul partecipante, ma anche sugli altri partecipanti o sugli altri Hackathon. Quindi sono misure di come un elemento, un'entità, interagisce con le altre entità. Tutto sommato, non sono troppo diverse tra di loro questi due tipi di misurazioni. In una, semplicemente, ho solo bisogno di un'informazione su un'entità sola, all'altra, vado anche a esplorare le relazioni di queste entità con quelle vicine, ma sono tutte informazioni che ho, diciamo, a livello statico. Diverse sono le misure in uso dell'entità, no? Quelle che dieci minuti fa dicevamo di processo. Cioè, quando una certa entità svolge una certa azione, o viene svolta una certa azione sopra questa entità, dipende se è un oggetto o un soggetto, allora vado a prendere delle misurazioni su questa azione che viene svolta. Quindi, quanto tempo ci mette l'utente a iscriversi? Quanti errori commette uno sviluppatore mentre scrive il codice? Poi magari gli errori li ha corretti, ma strada facendo li hanno rallentato. Quindi è un problema di processo. Durante quel processo, che cosa è successo? A prescindere dal punto di partenza e dal risultato iniziale, vado a vedere qualche attributo del processo. Quanto tempo è durato? Quante risorse è usato? Quanti errori ci sono stati? Quanti ripensamenti? Quante pause? Quante interruzioni? Quante... dipende da cosa sto misurando, ovviamente. Quindi, ad esempio, tutte le proprietà che hanno a che vedere con l'usabilità dei prodotti, la soddisfazione d'uso, la soddisfazione degli utenti, sono tutte di questo tipo. Un utente non è soddisfatto di un oggetto e basta, perché esiste. Ma è soddisfatto perché mentre lo usa gli dà un valore. E quindi il suo grado di soddisfazione dipende dal valore che gli dà quell'oggetto mentre lo sta usando. Se non l'ho mai usato, non posso valutarlo. Allora, qui ci sono alcuni esempi, di nuovo, di attributi interni o esterni a diversi tipi di entità. Qui, se vogliamo, troviamo quasi un pattern, una ricorrenza del fatto che se io come entità scelgo delle cose molto concrete, è più facile, ovviamente, identificare gli attributi. Cioè, se il codice è sorgente, il prodotto, allora posso definire quanto è lungo, quante righe di codice ha, quanto è facilmente mantenibile andando a misurare, quanto è complicato dentro, eccetera. Quando mi sposto su entità di tipo più astratto, tipo le risorse, le persone, allora diventa anche più difficile definire delle metriche altrettanto oggettive, altrettanto precise. Però questo è, sta nella natura delle cose. Stiamo facendo un discorso, purtroppo abbastanza astratto, stiamo cercando di definire questo concetto di misurazione per cercare di coprire una marea molto vasta di casistiche, di possibilità. Tenendo in mente questo, quindi, che abbiamo una casistica molto vasta di possibilità, dal punto di vista pratico, quindi partendo dal basso, nella definizione di un metodo di misura per ottenere una misura base, cosa mi aspetto di ottenere? La risposta, ovviamente, dipende da cosa stai misurando e come. Qui c'è un esempio, semplicemente, dei modi via via più sofisticati che si sono trovati per misurare una temperatura. Quindi, da metodi, diciamo così, intuitivi, soggettivi, che permettessero solamente il confronto, questo è più caldo di quest'altro, a primi strumenti, che però permetteranno ancora solo il confronto, questo è più caldo di quell'altro, ma non ti so dire di quanto, e non ti so dire quanto è caldo questo, ai primi termometri che erano basati su delle scale arbitrarie, inventate, fino ad arrivare alla misura di temperatura che conosciamo oggi, che è basata sulla scala di temperature assolute. Quindi l'attributo è lo stesso. La misura che ne ottengo può essere molto diversa. Posso avere un valore assoluto indiscutibile, posso avere un valore che dipende dalla scala, quando andate in uno stato in cui si usa una temperatura farina, delle prisioni del tempo non capita più niente. Ma non perché non sappiate cos'è la temperatura, o cosa sia il tempo, ma perché viene usata una scala diversa, arbitraria. Oppure non viene usata una scala, ma vengono usate semplicemente dei confronti. Adesso non siamo obbligati a tornare a cavernicoli e usare più caldo e più freddo per una scala di temperature, però se applichiamo questa varietà di misurazioni a vari altri concetti, ci accorgiamo che ci sono alcuni casi in cui effettivamente non si riesce a dire molto più che questo che A è migliore di B. Di quanto non lo so, non si può misurare. Ci sono dei casi in cui la misurazione si ferma al primo livello, a livello di confronto. Addirittura ci sono dei casi in cui mi fermo a livello ancora precedente, uguale o diverso. E quindi non sempre ciò che ottengo come risultato della misurazione che dicevamo, Kelvin diceva, deve essere un numero, non sempre questo numero ha un significato aritmetico preciso come un numero reale. Perché a volte rappresenta una quantità di cui magari non ha senso definire una differenza numerica, ma solamente un ordine. E quindi come si fa a distinguere queste cose? Un numero 3 è sempre 3. O meglio, 24 è sempre 24. Però se sono 24 gradi centigradi di temperatura si sta bene. Se 24 è il voto di un esame, io so solo dirti che è maggiore di 23, è minore di 25. Mentre invece la dico diversamente. se 24 fosse una temperatura, io ti so dire che la differenza tra 24 gradi e 25 gradi è esattamente di un grado. E la posso misurare questa quantità, questa differenza. La differenza tra 24 e 25, come ho fatto l'esame, invece non si può misurare. In che cosa consiste? Dov'è? dobbiamo riuscire a entrare in una teoria della misura che tenga conto di queste differenze. cosa stiamo veramente misurando? Quali caratteristiche ha ciò che stiamo misurando? E quindi di conseguenza quali sono le affermazioni che ha senso fare su un determinato tipo di misura. Affermazioni matematiche. e quindi di conseguenza quali sono le operazioni statistiche che possiamo usare su questi dati. Perché noi non ci possiamo accontentare di aver misurato delle cose. Dobbiamo aggregarle, dobbiamo creare indicatore sintetico. Indicatore sintetico si ottiene applicando operazioni statistiche. Le operazioni statistiche devono però essere compatibili col tipo di misura che ho fatto. Allora, questo signore, scusate che l'ha citato qua alla fine del re precedente, questo Stevens, si è messo a costruire un framework generale in cui tutte le varie tipologie di misure fossero definibili e ha definito 5 livelli diversi. Che poi dovremo andare a riconoscere quando andremo a misurare una cosa piuttosto che un'altra all'interno del sistema informativo. Ovviamente facciamo sempre riferimento a un insieme di entità. Poi lui ha definito delle relazioni possibili tra queste entità nel mondo reale e delle operazioni che nel mondo reale possono essere compiute tra gli oggetti di queste entità. E adesso qui vado relativamente e velocemente sulla parte formale perché quello che mi interessa è entrare nelle singole metriche. Stevens ha detto noi abbiamo definiamo una funzione di mapping praticamente un collegamento tra le entità e le relazioni che esistono nel mondo reale tra queste entità le mappiamo sul mondo delle misure sui numeri che otteniamo. Quindi nessuno si è lamentato quando io ho detto che questa sedia è alta 90 cm. In realtà io avrei dovuto dire che questa sedia è alta così perché questa è la sua altezza vera la sto toccando poi però per dare per avere un valore oggettivo faccio riferimento a un metodo di misurazione una scala di misurazione la traduco in un numero questo mapping qua tra la lunghezza vera e il numero che la rappresenta è un mapping che può avere proprietà diverse il punto d'arrivo è sempre il numero che la misura ma come ottengo questo numero ne determina le sue proprietà parlando sempre di altezza ci sono due persone di cui posso applicare una funzione di mapping altezza in centimetri e quindi posso dire che l'altezza in centimetri di Joe è 180 l'altezza in centimetri di Fred è 172 va bene e mi accorgo che definendo così l'altezza in centimetri tutte le volte che Joe è più alto di Fred tra tutte le coppie Joe-Fred in cui Joe si è più alto di Fred allora l'altezza in centimetri di Joe espressa come valore numerico è maggiore del 60 cm di Fred questo non è detto che sia sempre così se anziché l'altezza misurassi qualcosa di diverso potrebbe non valere dovrei capire qual è la relazione fisica del mondo reale se si mappa quale relazione e se si mappa sulla relazione di maggiore o minore tra queste numeri se M non fosse l'altezza ma fosse la città di nascita allora noi possiamo avere il luogo di nascita di ciascuno di noi in una grande tabella dove magari Torino è alla riga 172 e se questa tabella fosse in ordine alfabetico dopo l'attivio nella S Siracusa è al punto 180 se M fosse la città di nascita potrei dire che M di Fred è 172 Fred è nato Torino M di Gio è 180 Gio è nato Siracusa M di Gio è maggiore di M di Fred e poi dico M beh cioè non mi serve a nulla sapere che M di Gio è maggiore di M di Fred perché non posso dire che Siracusa è cosa più di o meno di Torino niente sono numeri appiccicati lì ma non hanno valore numerico il fatto che un numero sia maggiore o meno di un altro non mi dà informazione sulla realtà di questo luogo di nascita che è la misura che stiamo prendendo mi darebbe informazione se sapessi che ci fosse un Jane che ha come M 172 allora posso scoprire che Jane e Fred sono nati nella stessa città allora con questa misura nata in una città o città di nascita ha senso chiedersi uguale o diverso nel senso che l'uguaglianza alla diversità dei numeri della misura fa riferimento effettivamente a qualcosa di sensato nel mondo reale cioè il fatto che siano o non siano con cittadini mentre invece le operazioni di maggiore o minore non hanno senso non hanno senso vuol dire che non devono essere fatte non devono neanche pensare di fare un confronto numerico così ma la maggiore o minore in realtà alto non è che una sottrazione per vedere se è maggiore di b faccio a meno b e vedo se è maggiore di zero quindi se non ha senso fare un maggiore non ha neanche senso fare la sottrazione e neppure la somma e quindi neppure la media e non ha senso calcolare il massimo non ha senso calcolare il minimo se m rappresenta la città di nascita se m rappresenta l'altezza invece tutte queste cose sottrazione somma media massimo minimo si possono calcolare perfettamente sono sempre i stessi numeri solo che sto calcolando qualche cosa di cui so dare un'interpretazione nel mondo reale in cui quel calcolo serve a qualcosa e rappresenta qualcosa il problema è che una volta che è un numero non so più che cos'è e quindi devo ricordarmi io esplicitamente da dove è arrivato questo numero quindi in questo caso dice vabbè su questo esempio lo spiega qua parole che le relazioni empiriche tra le entità cioè le altezze delle persone vengono conservate sotto forma di relazioni numeriche tra le relative misure allora in questo caso la metrica è ammissibile accettabile e a seconda del tipo di misura che faccio avrò alcune metriche ammissibili altre meno abbiamo già visto l'esempio della città di nascita e l'altezza che ammettono operazioni diverse sono ammissibili per l'una alcune operazioni che per l'altra non lo sono Stevens ha raccolto in cinque scale di misura diverse cinque famiglie di tipologie di misurazioni che hanno le stesse caratteristiche quindi avremo queste cinque scale di misurazione in una scala ci saranno certe operazioni ammissibili e altre no in una scala successiva avremo qualche operazione ammissibile in più e così via vi risparmio la matematica se non per accennarvi questa questa slide di nuovo togliamo la parte della matematica prendiamo l'esempio per capire uno dei metodi per capire l'ammissibilità o meno di una certa manipolazione numerica su una scala di misura è quello di definire quali siano i tipi di trasformazione ammissibili cioè ad esempio per passare da una misura m in una certa scala a una misura m' in un'altra scala posso moltiplicare per un coefficiente ad esempio le misure di lunghezza sono tutte di questo tipo se io ti misuro in centimetri in millimetri in pollici in metri sono tutte misure diverse numericamente sono diverse ma sono ottenibili l'una dall'altra in quel modo il fatto che siano ottenibili attraverso la moltiplicazione implica e poi lo vedremo che ho una certa serie di proprietà matematiche ammissibili posso fare somme sottrazioni moltiplicazioni e divisioni invece potrei avere un'altra misura un'altra quantità che per cui per passare da una scala di misura a un'altra scala di misura mi serve una trasformazione lineare non omogenea l'esempio più classico è la temperatura la scala celsius la scala fahrenheit la scala kelvin sono tre modi diversi di misura la temperatura per passare da una all'altra non basta moltiplicare per un coefficiente di conversione ma bisogna anche avere un coefficiente di scala spostarlo a zero allora quando io ho una quantità che misurata su scale diverse da dei valori numerici che si possono riportare da una scala all'altra attraverso una trasformazione di questo genere avrò una certa serie di trasformazioni immessibili in un'altra e così via adesso questi esempi quali li riprendiamo poi quindi noi potremmo avere diversi sistemi di misura diverse scale di misurazione via via più ricche alcune saranno più povere perché permetteranno meno operazioni ci permetteranno di fare meno operazioni per via del tipo di misura che prendiamo altre scale invece permettono di fare tutto ciò che potevo fare con la scala precedente più altre cose più altre operazioni di solito via via che la scala diventa precisa ricca scusate usiamo questo termine diventa ricca meno possibilità ho per poter cambiare scala se io vi chiedo di scegliere tre colori nero verde o giallo che la mia scala sia nero verde giallo sia giallo verde nero sia verde nero mi sono perso li potete mettere nell'ordine che volete li rimescolate come volete l'ordine non importa quindi ho molta libertà nel rimescolare i numeri se io mi giuro invece una lunghezza non è che posso dire che il 90 viene prima dell'89 viene dopo quindi ho meno libertà nel cambiare scala ma questo mi dà come vantaggio il fatto che ho un concetto di ordine un concetto di differenza che nel caso dei colori non ho quindi ho questo compromesso tra scale molto libere ma sulle quali poi non riesco a fare i conti perché mi manca la base aritmetica e scale invece molto ricche ricche dal punto di vista di operazioni aritmetiche ma molto più vincolate nella loro definizione e se sono troppo vincolate nella loro definizione magari non sono adatte a misurare certi fenomeni che invece non sono così rigidi allora quali sono queste queste scale? sono queste cinque scala nominale ordinale scala degli intervalli scala dei rapporti e scala assoluta in quest'ordine nel senso che partendo dall'alto verso il basso le scale diventano via via sempre più ricche ma meno semplici più complicate qualunque fenomeno è misurabile attraverso una scala nominale che richiede lo vedremo tra un secondo semplicemente di poter distinguere se le due cose sono uguali o diverse al secondo del tipo di fenomeno però posso usare in alcuni casi delle scale più ricche più complicate meno semplici e quindi avere poi delle misurazioni sulle quali potrò poi costruire degli indicatori più complessi più sofisticati ma vediamolo nel concreto allora dicevamo adesso su questi concetti qua in cui abbiamo un po' navigato un po' anaspato in questa prima oretta proviamo a inquadrarli in queste cinque scale ok allora cosa è la scala nominale quindi sono tutte scale di misura sono modi diversi in cui si può esprimere una misura di un attributo di un'entità la scala nominale è la scala nella quale gli elementi vengono inseriti in categorie diverse l'esempio che facevo prima della città di nascita è un esempio di scala nominale io immagino che le varie città di nascita le varie città siano tante categorie diverse tanti cassetti diversi tanti insiemi diversi e l'operazione di misurazione è prendere la persona e chiedersi in quale cassetto in quale insieme va a finire sulla base del suo attributo città di nascita dove sei nato tra queste varie categorie non c'è un ordine lo posso forzare per carità posso dire le città le metto in ordine alfabetico le metto in ordine di longitudine di latitudine di temperatura ma sono tutti ordinamenti posticci la verità è che non c'è un ordine qual è il tuo colore preferito vabbè hai sette colori dell'arcobaleno e scegli quale preferisci però non hanno un ordine di per sé ciascuno di noi ha un colore preferito ma non posso dire che il giallo viene prima del verde sulla base di cosa quindi in questo caso in una scala nominale l'importante è dare un simbolo diverso numerico ma anche non numerico alle varie categorie alle varie etichette che posso attribuire a ogni elemento domanda che c'è sempre in tutti i moduli dove scrivete sempre in qualunque punto maschio o femmina questa è una scala nominale sono due etichette M e F e ne dovete scegliere una nessuna è maggiore o minore dell'altra nessuna è un valore numerico non posso fare somme differenze posso solamente fare i confronti diretti qui c'è un esempio una persona voglio valutare misurare l'origine di questa persona e decido che l'origine di questa persona mi interessa distinguere solamente a tre livelli è italiana è europea ma non italiana è estraeuropea questo è l'attributo che voglio misurare definisco quindi una funzione di misurazione la funzione di mapping che accennavamo prima che magari restituisca se ho 1 se tizio p è italiano 2 se p è europeo 3 se p non è europeo allora questa funzione di mapping che mi dà questi tre numeri 1, 2, 3 rappresenta una scala di misura nominale perché io ho questi tre insiemi Italia Europa fuori dall'Europa tra di loro sono disgiunti è facile sapere è ben definito in modo oggettivo l'appartenenza dell'elemento p all'una o all'altra ciò che invece non è oggettivo è arbitrario è l'attribuzione di numeri 1, 2, 3 allora io devo ricordarmi che 1, 2, 3 li devo leggere come ABC come asterisco stella e fiorellino c'è tre cose diverse se io scegliessi 101 per gli italiani 3,1 per gli europei e 5 per i non europei magari mi direste hai bevuto però sarebbe un mapping altrettanto lecito nessuno mi può dire che questo è più sbagliato di questo sulla base di che cosa sulla base di che cosa un mapping è buono e se mi permette di distinguere gli insiemi l'unico mapping sbagliato è se io avessi 1, 1, 1 allora mappo elementi diversi li rimappo sullo stesso valore sulla stessa etichetta e quindi creo confusione perdo informazione allora questo non sarebbe accettabile ma né i valori che assegno né l'ordine con cui l'assegno chi viene prima chi viene dopo non sono oggetti di discussione li invento a caso ok allora si sono inventati a caso possono anche non essere numeri possono essere etichette i e x non importa ok quindi sono minure di questo genere di cui l'unica cosa che importa che ha senso è chiedersi se due elementi le relazioni di cui si parlava prima da Fred e Joe se due elementi appartengono o non alla stessa classe basta l'unica domanda che posso fare e allora dal punto di vista statistico su una scala nominale che cosa posso fare che statistiche posso fare e non potrò fare una nazionalità media che vuol dire quello che posso fare sono dei conteggi quindi l'unica operazione che posso fare su questi insiemi etichettati con delle etichette arbitrarie è contare gli elementi che contengono quindi la domanda che ha senso è quanti sono italiani quanti sono europei questo lo posso fare quindi di fatto creare una tabella con le frequenze per ogni categoria ti dico la frequenza assoluta ho 280 italiani 320 europei 1000 extra europei frequenza assoluta perché si basa semplicemente sul contare gli elementi che appartengono insieme e contare gli elementi che appartengono insieme si basa solamente su una nozione di base di essere in grado di dire a quale insieme appartiene un determinato elemento che è equivalente a dire sapere se due elementi due persone sono nello stesso insieme oppure no posso anche definire la frequenza relativa quindi la frequenza espressa non in numero di unità ma in percentuale basta dividere per il numero totali di elementi è la stessa cosa lo posso fare oppure l'unica statistica l'unica funzione aggregata che posso dare è la cosiddetta moda statistica la moda è definita come l'insieme la categoria che contiene il numero maggiore di elementi quindi se la categoria fosse maschio femmina la moda è maschio se ci sono più maschi che femmine la moda è femmina se ci sono più femmine che maschi nell'esempio che ho fatto prima mettendo i numeri a caso su Italia Europa Est Europa la moda sarebbe Est Europa perché non è simile mentre in altri casi sono i numeri più piccoli cioè qual è la categoria che contiene il maggior numero di elementi rispetto agli altri quella definiamo come moda la moda si può sempre misurare in qualunque tipo di misurazione comincia a diventare difficile se quando passeremo a delle misurazioni sulla retta reale perché a quel punto il concetto di tradurre numeri reali di essere uguali o diversi diventa più difficile quando ho poi degli errori di misura ma per ora siamo su categorie distinte ma per fortuna le cose che misuriamo su scale nominali sono abbastanza poche sono più delle etichettature luogo di nascita nazione di nascita sesso mese di nascita se ti interessa no scusate ritiro l'esempio mese viene dopo colore preferito queste cosette qua da cui ci lasciano un po' delle usi perché non è che possiamo estrarre molta informazione un gradino sopra alla scala nominale c'è la scala ordinale la scala ordinale di nuovo si basa su un'etichettatura degli elementi all'interno di un certo insieme di classi ma queste classi tra di loro sono ordinate io posso dire che queste varie classi si possono disporre in un ordine solo in un modo solo e quindi so mettere in ordine gli elementi diciamo dal più piccolo al più grande questo avviene molto spesso come dicevamo nei questionari di gradimento questa funzione ti è piaciuta? sei rimasto soddisfatto? per nulla poco in modo sufficiente e molto in modo esageratamente esagerato per nulla poco un poco tantissimo a vari livelli di cui è ovvio che molto è più di poco e poco è ancora a sua volta migliore rispetto a pochissimo o per nulla qui io posso definire un ordine tra le categorie un ordine naturale non ambicuo cioè chiunque darebbe lo stesso ordine non ci sono dei dubbi non ci sono sulle città è vero che anche prima sulle città le potevo mettere in ordine però abbiamo detto ma in che ordine l'ordine alfabetico l'ordine di popolazione l'ordine di di latitudine era un ordine posticcio l'ho chiamato così qui invece c'è un ordine naturale evidente tra le categorie e quindi ogni volta che io ho due elementi a I e a J e a J che appartengono a due classi diverse allora so mettere in ordine i due elementi andando a vedere in che ordine sono poste le classi a cui appartengono se io facessi qua il questionario chiedendo una domanda di questo genere no? datemi un livello di soddisfazione su una certa cosa e qui ho perso la pratica tanto più indietro scusate mi è finito il mouse sul tasto end mi è finito il microfono sul tasto end siamo nella scala ordinale ecco qua scusate se facessi questa domanda quanto siete soddisfatti di un determinato fattore potrei a quel punto mettervi in ordine mettendo prima tutti coloro che hanno risposto per nulla poi tutti coloro che hanno risposto poco poi tutti coloro che hanno risposto si sia soddisfatti e infine tutti coloro che hanno risposto moltissimo all'interno di ogni categoria ovviamente non c'è nessun ordine però è possibile mettere in fila diciamo così gli elementi misurati le entità misurate sulla base dell'ordine della categoria a cui appartengono io potrei cambiare il nome delle categorie anziché poco pochissimo le potrei chiamare abcd le potrei chiamare 1, 2, 3, 4 ma non cambierebbe la sostanza l'unica cosa che ha senso di quelle categorie è che pochissimo è meno di poco che è meno di va bene che è meno di va benissimo e su questo appunto molti l'esempio che è riportato qua lo stesso che facevamo molti questionari sono basati su una scala di questo genere una scala ordinaria i questionari che voi fate a fine corso i CPD sono basati su quasi tutte le domande sono su una scala ordinale a ben pensare a quello che dicevamo i voti che vi danno scuola i voti che vi danno l'università sono su una scala ordinale nonostante uno ci faccia i conticini per cercare di essere il più equo possibile alla fine l'unica cosa che puoi dire è che questo è fatto meglio di quell'altro o è fatto meglio rispetto alla sufficienza o è fatto meno bene della perfezione e così via sono sempre confronti relativi tra due categorie e qui ovviamente rispetto alle categorie possiamo dare una funzione di mapping che mi istituisca dei numeri in questo caso questi numeri devono essere crescenti in modo coerente con l'ordinamento naturale delle categorie l'unica cosa necessaria è che i numeri siano crescenti e basta quindi se scegliessi altri numeri come questi anziché un 2, 3, 4 meno 2, 1 scusate meno 2, meno 1 1 e 10 dovrei poterlo fare lo devo poter fare se voglio farlo senza cambiare l'entità di ciò che viene misurato ok? e qui si vede se noi abbiamo detto che questa misura la misurazione di quanto sono in accordo con una determinata affermazione di quante affermazioni si può misurare solamente l'ordine cioè a che livello hai dato del tuo accordo e non c'è una quantificazione maggiore il fatto che io abbia comunque quantificato con 1, 2, 3, 4 o con meno 2, meno 1 o 1, 10 non dovrebbero cambiare le conclusioni che traggo dagli indicatori finale no? però questo significa anche che se io come indicatore usassi la media sbaglierei perché sbaglierei? perché la media di una certa distribuzione di un questionario se le misure sono 1, 2, 3, 4 mi dà un certo valore se le misure fossero meno 2, meno 1 o 1, 10 mi darebbe un valore completamente diverso e magari invertito cioè se in alcuni casi con un certo tipo di metrica la media aumenta con una metrica diversa ma compatibile ma valida la media potrebbe diminuire non è difficile costruire controesempi di questo genere dobbiamo solo convincerci che se la misura che stiamo facendo è di tipo ordinale i numeri che li abbiamo appiccicato sono puramente arbitrari l'unica cosa che possiamo fare come dicevamo è mettere in fila le risposte dalla più piccola alla più grande non potrò chiedermi tra la prima e la seconda classe che differenza c'è tra la seconda e la terza classe che differenza c'è non posso fare differenze o somme tra questi valori numerici potrò fare solo confronti tra questi valori numerici tu sei in una classe che viene prima o dopo quell'altro questo è un'altra che dal punto di vista ordinale posso fare qualcosina in più ma non tanto scusate dal punto di vista statistico in una scala ordinale potrò fare qualcosina in più di una scala nominale ma non tantissimo allora qui sono riportate in grigio le cose che già potevo fare su una scala nominale ovviamente quando salgo su una scala più ricca continuo a poter fare le cose di prima il fatto che le classi siano ordinabili implica anche che siano distinguibili siano diverse tra di loro quindi l'ordinale comprende completamente ciò che potevo fare sulla scala nominale ma in più l'operazione che posso fare è mettere in ordine il sorting delle risposte perlomeno tra classi le risposte della stessa classe sono tutte uguali ma tra una classe e l'altra hanno un ordinamento ben definito mentre prima non potevo mettere in ordine avere un ordine naturale per la città qui invece un ordine naturale per le risposte ce lo posso avere allora cosa mi dà in più il caso delle città io ho gruppi di persone diverse immaginiamo di raggruppare le persone vediamocelo in quest'aula gruppi di persone diverse che fanno capanello tutti quelli della stessa città fanno parte dello stesso capanello io posso dire la moda qual è il capanello più grande e basta se invece però questi capanelli sono ordinati quindi non sono più le città ma sono magari le risposte un sondaggio io posso ancora dire qual è il gruppo più numeroso ma posso anche contare gli elementi dal più piccolo al più grande contare gli elementi dal più piccolo al più grande mi permette anche di fermarmi a metà quindi io ho 100 elementi 150 150 persone non mettiamo 100 che poi sembra il 100% 150 persone li metto in ordine in base a come non ho risposto e comincio a contarli dal primo mi fermo a 75 che è a metà del mio insieme di elementi e mi chiedo al 75 tu a che classe appartieni? questa è la mediana la mediana è la classe di appartenenza dell'elemento che dato un ordinamento di tutti gli elementi sulla base dell'ordinamento naturale delle classi si trova a metà separa a sinistra e a destra lo stesso numero di persone lo stesso numero di elementi se io prendo un elemento l'elemento mediano mi dice che divido la popolazione grossomodo in due parti quindi prendere gli elementi minori della mediana mi dà un valore che è minore del 50% gli elementi maggiori della mediana mi dà un valore che è minore del 50% e lì in mezzo ci sta la classe mediana poi posso fare di più perché mi devo fermare a quello di centro posso dividere tanto li ho tutti in fila la mia fila in quattro parti uguali se non 150 saranno i primi 37 i secondi 37 quanto viene la metà di 75 e così via e allora avrò il primo di quattro il primo quartile il secondo quartile ossia la mediana il terzo quartile ossia no ossia niente ossia il terzo quartile cioè ho diviso in quattro gruppi anziché in due solamente a metà e posso dirti quali sono le classi rappresentative del primo 25% di risposte del 50% di risposte e del 75% di risposte quindi ho queste modelle possibili che mi permettono di capire come è distribuita la mia risposta mediana quartile si può parlare anche di decile o di centile se divido in 10 se divido in 100 la popolazione quindi in realtà la mediana è il cinquantesimo per centile il primo quartile è il venticinquesimo per centile questo ile ci dà l'idea di questo metodo di misura ci dice quanti elementi stanno a sinistra e quanti elementi stanno a destra qual è il valore che lascia a sinistra il 25% degli elementi il primo quartile qual è il valore che lascia a sinistra il 50% degli elementi e questa è la mediana o il secondo quartile o il cinquantesimo per centile della distribuzione non c'è niente la mediana con la moda sono scorrelate io posso avere un certo tipo di mediana e una moda completamente diversa nel nostro esempio ABCD della domanda con 4 risposte possibili io potrei avere dunque 20A 20B 20C e 40D fa 100 se ho 40D è il numero più grosso e quindi la moda è D ma la mediana è C per 20 20 20 40 il 20 centrali il cinquantesimo elemento accade nel C potrei anche avere una mediana B se facessi 28 28 4 40 C è magro 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 allargo A e B fino a far sì che la somma di A più B faccia più di 50 e allora la mediana diventa B C diventa magro e D diventa largo e quindi rimane largo a 40 quindi la mediana D e la scusate o la moda D e la mediana B quindi possono essere anche molto distanti tra di loro misurano cose diverse effettivamente rappresentano cose diverse e queste sono le scale ordinali sono le due scale nelle quali il valore numerico che diamo alle varie categorie c'è ma non va inteso come un numero non ha le proprietà di un numero infatti non li stiamo questi numeri non li stiamo sommando tra di loro non stiamo facendo nessuna media non li stiamo sottraendo tra di loro per calcolare le differenze le distanze tra una categoria e l'altra quindi a volte faremmo meglio di non usare i numeri peccato che usiamo i computer per elaborare queste cose e i computer si basano su numeri resistiamo però fortemente la tentazione di applicare una media a un valore di questo genere un altro modo di calcolare i quartili mi sono evidentemente un modo diverso di esprimerlo che poi in realtà useremo tantissimo è chiederci quanti elementi superano una certa soglia e superano un certo valore su un questionario io non mi posso chiedere dicevamo qual è la media delle risposte mi darebbe un numero completamente inaffidabile non mi piace chiedere la moda che dice abbastanza poco soprattutto se ho degli insiemi che sono di dimensione più o meno paragonabile la moda va da una parte all'altra quasi per caso quasi per accidente allora visto che pensiamo ai vostri questionari del CPD ha senso dirmi gli studenti a questa domanda hanno risposto con un valore medio di 3,7 che è quello che viene fatto non ha senso che cosa avrebbe senso? cioè qual è un modo dei modi sani per analizzare questa informazione? beh il primo modo è quello più completo dammi le frequenze quanti hanno risposto 1 quanti 2 quanti 3 quanti 4 i numeri li so leggere e quindi da lì posso vedere qual è la risposta più frequente che ovviamente è la moda ma anche qual è la seconda più frequente allora se la più frequente è 1 la seconda più frequente è 2 sono messo male se la più frequente è 1 la seconda più frequente è 4 allora vuol dire che il gruppo è spaccato in 2 cioè mi dà già dell'informazione in più avere quella nozione oppure un numero il brutto della moda o della mediana è che è un'informazione secca la moda è 3 la mediana è 3 ok ma 3 quasi 4 o 3 appena più di 2 perché cambia no? cioè sulla classe del 3 io so che lì in mezzo c'è il 50% ma se il cinquantesimo è proprio l'inizio della classe 3 e poi tutta la classe 3 viene dopo bene se invece la classe 3 viene tutta prima la distribuzione cambia abbastanza cioè quello che sto cercando di dire è che la frequenza e la mediana cioè la moda e la mediana sono misure a scatti 1 2 3 4 se sono 4 categorie quindi da un anno all'altro magari la mediana è sempre 3 allora io non so se ho migliorato o peggiorato in quell'anno perché la mediana è una misura troppo grossolana ma la mediana non la posso fare cosa posso fare? ad esempio posso calcolare la percentuale di utenti soddisfatti cioè la frequenza di coloro che hanno risposto 2 o 3 che è una frequenza accumulata non è la frequenza della classe 3 e della classe 2 ma è la somma della frequenza della classe 2 più la classe 3 allora io so che se la mediana è 3 e la frequenza di coloro che hanno risposto 3 o 4 è aumentata da quest'anno rispetto all'anno precedente allora va bene perché c'è un flusso di persone che avevano detto 1 o 2 che adesso invece dicono 3 o 4 quindi dobbiamo sempre ricondurci sempre a operazioni che possiamo fare contare contare una classe contare un intervallo di classi qui lo posso fare perché le classi le posso mettere in ordine quindi da qui in avanti e lì riesco a avere anche delle misure fini rappresentative che però non violino diciamo così le proprietà matematiche della misura che stiamo facendo le misure successive invece sono un pochino più tranquille nel senso che cominciano a avere anche un senso matematico e quindi potremmo farci la statistica più seria giovedì le andiamo a conoscere